Hellboyz, il calendario di quest'anno. Il calendario di quest'anno in anteprima c'è un personaggio fantastico, credetemi, è famosissimo, simpatico, intraprendente, guardate, si chiama Maverick e ha degli addominali pazzeschi. Poi ovviamente è accompagnato anche dal padrone che ha partecipato al calendario e ha anche un mese interno, penso luglio se non sbaglio. Comunque guardate, a parte questo è un calendario divertente, sexy e va preso, quindi vediamoci ogni mese su Hellboyz. Ha questa splendida rivista Q Magazine, in copertina c'è Giorgia, però molto probabilmente nelle prossime copertine ci sarà anche Maverick. Tutte e due. Magari tutte e due, magari Maverick è il suo padrone Luca, Dorigo, magari. Questa me la voglio leggere, me la puoi dare? E poi aspetto anche la prossima che è a novembre, quindi Q Magazine a novembre e per ora il calendario di Hellboyz. Ciao!